Allora, siamo veramente entusiaste di questo incontro con la collettività di Post Disaster qui a Taranto, intanto perché è un po' la nostra prima volta a Taranto, è sicuramente una città che ci ha sempre in qualche modo attirato, ma poi è sempre stata un po' fuori dalle geografie dei nostri percorsi e finalmente ora c'è l'occasione. L'incontro con Post Disaster è stato immediatamente una reazione chimica a pelle, che è un po' poi quello che andremo a lavorare sabato in questa location incredibile, che saranno quindi i tetti della città vecchia. In questi giorni siamo qui e abbiamo deciso insieme a loro di prenderci un tempo per lavorare qui in città, quindi non preparare il lavoro a Roma dove noi abitiamo, anche se non siamo proprio di Roma, ma prepararlo qui e quindi avere anche un tempo con cittadini e cittadine della città, abitanti, anche un tempo per stare, conoscere e farci guidare da Post Disaster dentro a questa collettività. Ora siamo qui al Tanteatro che ci sta ospitando in questo posto meraviglioso e stiamo un po' raffinando le ultime cose della giornata di sabato. Sabato in realtà non è una giornata scritta a penna su un foglio, ma è una giornata desiderata. Non sappiamo ancora esattamente bene cosa accadrà, ma non nel senso di disorganizzazione, ma perché il fattore presenza del pubblico, il fattore umano, è per noi insieme, ovviamente a Post Disaster, una variabile assolutamente dipendente rispetto a quello che andremo a fare. E quindi cerchiamo il più possibile di lasciarci contaminare, che ovviamente questa parola è una parola che normalmente qui risuona in modo molto pesante, e invece provare quindi a rideclinare questa parola e quindi avere una contaminazione che in qualche modo sia anche produttrice di piacere. Cosa aspettate dall'incontro con il pubblico di Taran? E anche cosa ci attende? Allora, noi appunto, come diceva Silvia, è un lavoro aperto, è un'azione performativa, quindi è proprio la caratteristica dell'azione, in questo senso è anche molto aperta. Noi stiamo studiando appunto degli elementi che poi entrano in reazione con la presenza delle spettatrici e degli spettatori, intanto sarà all'aperto, è sui tetti, e quindi è anche un lavoro molto ambientale fatto proprio insieme allo spazio che abbiamo intorno, ed è un lavoro questo che si chiama The Future is Now, il futuro è adesso, che è una ripresa di un lavoro di Nanjoon Pike, quindi quegli anni di sperimentazione dei 60-70, molto nella ricerca del linguaggio, eccetera, e l'idea è proprio di lavorare con delle sostanze liquide, con delle sostanze acquose, ci sembravano le materie da tenere amiche in questo passaggio di Taranto, perché siamo circondate ovunque dall'acqua, che spesso non sono così pure o così amiche come sembrano, quindi sono sostanze reagenti, anche sostanze irritanti, che lasciano delle tracce, seppure molto liquide, su, in questo caso, dei teli, sui tetti. Quindi è una partitura fisica, quella che scriveremo, eseguiremo, in particolare Silvia, che lascia però attraverso il lavoro con le sostanze acquose una traccia, quindi accadrà tutto sul momento, anche se la temporalità di questa performance, lo vedrete proprio nella reazione di queste sostanze con le tele, con i materiali, ha un tempo anche più lungo, quindi sono due sostanze differenti, che lasceranno delle tracce su queste tele, che poi resteranno un po' come quando passano le lumache, oppure rimangono appunto i gusci di alcuni molluschi nel tempo, quindi un po' l'idea è questa, ispirarci a queste tracce non solo umane, che qui sono anche molto presenti, che alle volte sono le sostanze tossiche, che alle volte sono invece i percorsi animali o non umani.